Oh, e là che bella sorpresa, era un tempo che non ci vedevamo. Invece eccomi qua, sono due ore che l'ha spento. L'avessi saputo se ne è venuto prima, ma che fa così, si metta conto? Ma sono già accomodato. Allora si incomodi, faccia finta che sia a casa 5. Ma sopra a casa mia. E' un momento, io sono da diversi mesi che ci convivo col mio babbo. Per la certezza 9 mesi, quando mi dovete dare per l'affitto. Questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché mi sei venuto incomodato? Perché mi dovete ragare. Eh, io non posso. Come? Io sono a carico di mio padre. Alla sua età? Sì, sì, sono minore. Come? Sono minore. E se lei è minore, suo padre che sarà? Mio padre è maggiore. Come? Il maggiore del bersagliera riposo. Ah, e dov'è questo maggiore del bersagliera? Eh, lo devo riposo, sta sull'estero, sta riposando. E chiamiamo questo maggiore del bersagliera, altrimenti lo chiamo io. Maggiore, maggiore. Osti, l'esame, guarda, sto poco bene. Ha avuto il mio figlio, ma anche gli orecchioni. Ma cosa gli orecchioni? Ma lei viene avuto gli orecchioni? Io no. Eppure così me lo hanno detto. E chi gliel'ha detto? Ostra moglie. Vabbè, vabbè. Babbo? Babbino? Babbuccio? Ho sentito, ho sentito, ho sentito, e dammi tempo, no? Guarda, un po' di una mitraia, cos'è che vuoi? Babbo? C'è questa specie di signore, il padrone di casa, che vuole parlare con me. Ah, io oggi per me. E anche io l'ho, mi ha detto che c'è lei qui in bocca. Vai, c'è un giurlo, vai. Me lo cucino io. Maggiore, lei mi deve nove mesi di gioco, l'affetto di questa casa. Ma lei c'ha il figlio? Come? Semmai mia figlia gliele deve dare. Sa, io sono a carico di mia figlia. Ma come? Vostro figlio è carico vostro e voi siete a carico di vostra figlia. E non ci faccia caso. Ci carichiamo e scarichiamo al vicende. Siamo, non siamo, devo accettare. Amigato, lei è maggiore dei bersaglieri a riposo, avrà di sicuro una forte pensione. Ah, non me ne parli, non me ne parli. Ho fatto domande e controdomande. Non mi hanno mai voluto riconoscere il grado. Visto. Eh, ma lei non è maggiore dei bersaglieri. Come? Ho sette fratelli in barinca, tutti i bersaglieri. Io sono il più grande, quindi sono il maggiore dei bersaglieri. Ah, e quindi anche lei è un morto di fame. Nulla da nè. Non so che la faccio. Ho detto nulla da nè. Non dendo niente. Ami. Ma chi è che sono il signore? Troppo buona signorina. Eh, signore. Oh, che labbracalde. Ho sentito come le specie di primi doni. Eh, signora, io sono il padrone di casa. No, lei, così giovane, e poi il borghese. Papà, ma tu non devi andare a fare quel dato su. Cia. Vado, vado, piccola, anche perché il signore è qui, vuole restare a porto con te. Eh, ma io ci sto. Ci sto. Ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Sì, papà. Ricorda che sei figlia, dico tanto padre. Sì, papà. Ricorda la battaglia di volta via. Le cinque giornate, ricorda la marmora. Sì, papà. Eh, stessi. Riposo. Eh, stessi. Parapapà. Che uomo. Non conosci il stato. Che facciamo che sei figlio? Andiamo. Venga. Come si fa? Allora, che cosa? Il mio cappello? Dove? No. Quanto mi dispiace? Non c'è niente che metto faccio. Prego, prego. Sì, sì, sì. Ho il nasone. Questi nasi. Potrò la prossima? No, no, signora. Le mie amiche vivono che ho il nasone. Tutta irrisia. No, signora, signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. Non parliamo di soldi. Sapessi anch'io che ho bisogno di soldi. E quanti soldi. Sa, ho mio marito disoccupato. E poi i bambini. Ma lei ha figli? No. E ha detto i bambini? Ma come via tempo, sono appena dieci anni che sono sposata. Non sono mica fiaschi che si abbuffano, sa? Io ho tutto sulle mie spalle. Guardi, guardi. Ah, vedo, vedo. Tocchi. No, no, perché... No, 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 no. No. Ma non mi guardi. Ma le fa un senso. Lei con quegli occhi mi spogli. Spogliatore. Che ci fai tu che le toglie con quegli occhi? Ma che ci fai? Che ci fai con quegli occhi? Signore, io sono fatta di caldo. Eh, anche io sono fatta di caldo. La mia carne urla, fa. Signora, non mi trovo di perché io sono un uomo. E anche io. Allora, non mi chiami, signore. Mi chiami Lola. Lola. Ah, insomma. Lolita. Lolita. Ti piace? Lolita. Zic. Ma... Che ci fai? E tu, donna fedele, cornuto me fascisti. Santuzzo, vada. Io schiavo non sono di questa domanda genosidia. Non cantare, scazzate. No. Te scazzo. Aitto voglio. O sango suo voglio bevere. E tu, cosa fidusa? Fottanti di dolore. Fottanti di dolore. Fottanti di dolore a data mia. Ma cosa ha detto? Fottanti di dolore a casa mia. Sì, non lo so se io non l'ho nemmeno toccato. Ti toccò? Diciamo la verità. Mi toccò sì. Ah, don Cassi? E allora sfogliate. Nudo te voglio ammazzare. Stuffe e se si lavano col sangue. Col sangue no. E come ne vogliamo lavare? Col sagone? Io vi negare i nove mesi di affitto. Nove mesi? E oggi così poco, Santuzzo? Ammazzalo. E' un anno. E' poco. Ammazzalo. Due anni. E' poco. Tre anni. Che dici? Un dreigno? Mi sta bene. E allora vattinne. Ma non fettere giuppare a casa mia per tre anni. Se ne vada. E anche questo è fatto.